Durante una live sul canale Twitch di Yotobi, facente parte del format Horror Mania, è emerso un titolo alquanto particolare intitolato The Raceway, un gioco di racing con macchine personalizzabili in stile 2D, considerabile horror anche se non sembra. Nulla di che per quanto riguarda lo stile di gameplay, ma una cosa è saltata all'occhio, lo sfondo di gioco, quello che state guardando adesso. In chat gli spettatori hanno iniziato a riempire di messaggi, chi vedeva un uomo, chi una bottiglia e chi due amanti che si baciano. È interessante notare come un'immagine possa smuovere diverse sensazioni, soprattutto trattandosi di un frame derivante da un titolo gratuito. Vi lascio in descrizione un gameplay del gioco, essendo davvero breve, dove potrete vedere ben altro di più inquietante rispetto a quella singola immagine. Già, l'immagine. A proposito, voi che cosa ci vedete? A proposito, voi che cosa ci vedete?